Si è sciolto come se fosse ghiaccio Mi piace il dolce ma odio il salato Lavoro tutti i giorni tranne lunedì Mi piacciono sia i cani sia i gatti O la smetti o ti denuncio Ho fame e quindi inizio a cucinare Luigi non esce perché è stanco Canto ogni volta che guido Nonostante sia estate non fa caldo Se ci fosse il sole uscirei Vado a passeggio finché c'è luce Luca viene a cena ma non beve vino Puoi venire in auto oppure in vice Se non nevica allora non sciamo Mi piace andare in bicicletta Mi piace andare in bicicletta Studio molte canzoni per piano In Messico cade molta pioggia Ho messo due piatti sul tavolo A casa mia ho alcuni animali Lo zaino di Luigi è nuovo Lei va sempre a casa in moto Usciamo da scuola Usciamo da scuola alle due Uso il telefono di un amico Ho messo i vestiti in valigia Luca dice qualcosa a Giulia Sono salito su un autobus Il volante Il volante Il volante La ruota La ruota La targa La targa La targa Il faro Il faro La portiera La portiera Il motore Il motore Il motore Lo specchio Lo specchio Lo specchio Il sedile Il sedile La cintura La cintura La cintura La cintura La benzina La benzina La batteria La batteria La batteria I pedali I pedali I pedali Il banco Il banco di Maria Il suo banco La matita di Carlo La sua matita I fiori I fiori del giardiniere I suoi fiori Le penne di Paolo Le sue penne I dischi delle ragazze I loro dischi I miei I miei E i tuoi fogli I nostri fogli Le tue E le sue scarpe Le vostre scarpe La borsa La borsa delle signore La loro borsa Gli zaini degli scolari I loro zaini L'auto del ragazzo La sua auto La mia e la tua scuola La nostra scuola Il mio e il suo cane Il nostro cane Le tue e le loro scarpe Le vostre scarpe La radio di Luca e Paolo La loro radio Il libro del segretario Il suo libro Chi devo ascoltare? Cosa devo prendere? Quante persone ci sono? Perché non vieni con noi? Come mai arrivi adesso? Dove stai andando? Quale gelato preferisci? Quando compi gli anni? Chi ha rubato i soldi? Cosa vuoi fare domani? Come ti senti oggi? Non so come farlo Perché non la smetti? Dove trovo un bagno? Quanto tempo ci vuole? Che giornale leggi? Con chi vai al cinema? Di cosa parlate? A che ora c'è lezione? Quanta acqua bevi? Come fai a saperlo? Da dove vieni? Dove sono le chiavi? Qual è il tuo nome? Che lingue parli? Quanto sei alto? Qual è la tua auto? Dove lavori? Avete degli amici italiani? No, non ne abbiamo. Vorrei una bottiglia d'acqua. Ne hai una più piccola? Luca ha un cane. Io ne ho due. Le forchette non bastano. Dammene altre. Vorrei del prosciutto. Mi dispiace, non ce n'è più. Ho una nuova macchina. Ne vorrei una anch'io. Che ne pensi di Paolo? Ho speso molto, ma ne è valsa la pena. Chi se ne importa? O chi se ne frega? Non ne posso più. Me ne devo andare. Quante cartoline devi scrivere? Ne devo scrivere altre due. Quanta pasta vuoi oggi? Oggi ne voglio mangiare poca. Hai sentito le ultime notizie? No, non ne so niente. Oggi ho ricevuto molte telefonate. Ne ho ricevute dieci. Andiamo via. Che ne dici? Quante me le vuoi? Le vorrei tutte. Hai bisogno di una matita? Sì, ne ho bisogno. Conosci qualche cantante italiano? No, non ne conosco nessuno. Non ne ho più voglia. Ho comprato un libro e ne ho lette due pagine. Non ho studiato perché stavo male. Non è solo bella, è anche ricca. La stanza è piccola, ma almeno è pulita. Sta per piovere, infatti è nuvoloso. Tra l'altro non sono neppure stato avvertito. Questo film è così noioso. Parla chiaro così che lui capisca. Non è divertente, però è necessario. Prendo una bibita invece del caffè. Sono invitati tutti tranne Claudia. Non posso venire prima di domani sera. A quei tempi andavamo in giro insieme. Ho visto quel film solamente una volta. Ci siamo visti in piazza qualche mese fa. E allora che cosa facciamo? È davvero tardi, adesso me ne vado. Mentre lei dormiva, ho cucinato la cena. A questo punto non so più cosa fare. Alla fine non abbiamo mangiato nulla. Prima studiamo e poi usciamo. Sono arrivato giovedì, cioè ieri. Io ho una bicicletta. Io ho un guasto alla macchina. Noi siamo molto felici. I miei genitori sono giovani. Mio cugino ha due gatti. I miei vicini sono due tedeschi. Voi siete in vacanza. Claudia ha mangiato una mela. Voi avete il suo indirizzo? Le ragazze sono arrabbiate. Loro sono lontani da casa. Lei ha molte piante. Noi siamo alla stazione. Voi avete qualche informazione. Io ho un'auto nuova. Noi abbiamo un appartamento. Il mio computer è vecchio. Lei ha i capelli biondi. Se hai sete, bevi l'acqua. In biblioteca abbiamo molti libri. I miei vicini sono simpatici. La ragazza ha le ragazze. I professori ha i professori. Gli avvocati ha gli avvocati. Lo zio ha lo zio. L'amico ha l'amico. Di La ragazza Della ragazza Le donne Delle donne Il professore Del professore I bambini Dei bambini Gli uomini Degli uomini Lo studente Dello studente L'amica Della mica Da La scuola Dalla scuola Le città Dalle città Il Giappone Dal Giappone La Spagna Dalla Spagna I medici Dai medici Lo zio Dallo zio L'Italia Dall'Italia In La città Nella città Nella città Le città Nelle città Il centro Nel centro Nel centro La scuola Nella scuola I ristoranti Nei ristoranti Lo zaino Nello zaino Nello zaino L'anno Nell'anno Su La scuola Sulla scuola Le città Sulle città Il divano Sul divano I cavalli Sui cavalli Gli avvocati Sugli avvocati Lo zio Sullo zio L'amico Sull'amico Un coltello Dei coltelli Uno sbaglio Degli sbagli Una forchetta Delle forchette Un salotto Dei salotti Uno zio Degli zii Una cucina Delle cucine Uno psicologo Degli psicologi Un bagno Dei bagni Una camera Delle camere Una bottiglia Delle bottiglie Una sedia Delle sedie Una tavola Delle tavole Un bicchiere Dei bicchieri Un cucchiaio Dei cucchiai Un cucchiaino Dei cucchiaini Una forchetta Delle forchette Un coltello Dei coltelli Uno gnocco Degli gnocchi Un'automobile Delle automobili Un amico Degli amici Un amico Delle 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 Hai Cat